Il convegno è la 19SMA edizione, è un convegno realizzato sull'imaging cardiovascolare e abbiamo approfondito non solo l'ecocardiografia, che è un po' il centro dei nostri interessi, ma anche la risonanza magnetica e la TAC Multislice. Il convegno vede riuniti esperti italiani e stranieri, in particolare ci sono i colleghi dell'Università Compotenze di Madrid e i colleghi del Brompton Hospital di Londra che sono venuti a darci una mano in questo convegno. Penso che una delle cose più importanti che dobbiamo chiarire è l'appropriatezza dell'uso dell'imaging cardiaco, perché usare appropriatamente le tecniche significa anche un risparmio nei costi della sanità. Quindi dobbiamo ben definire quando usare l'ecocardiografia, quando usare la risonanza, quando la TAC Multislice. Particolare attenzione in questo convegno è dato all'ecotridimensionale, che è una delle novità più recenti dell'ecocardiografia, allo speckle tracking che serve a valutare la funzione del ventricolo e in particolare poi alla stessa risonanza, perché chiaramente è la tecnica che ora sta crescendo e che sarà molto utile ai cardiologi per prendere decisioni.